Nelle scorse settimane sono state tante le polemiche sui social per quanto riguarda la costruzione della nuova rotatoria che collega Psella Montelabate. Sindaco di Vallefoglia, lei cosa risponde in merito a queste polemiche? Le polemiche sono il sale della democrazia e della libertà. Le rotatorie, vorrei ricordarlo, quando non c'erano le rotatorie era pieno di incidenti con i semafori, di molti dei quali anche mortali. Le rotatorie servono per regolare meglio il traffico, servono per rallentare anche chi è abituato ad andare a velocità supersonica e servono per abbellire un percorso, nel senso che se i cittadini guardano le rotatorie della città di Vallefoglia sono tutte ben titeggiate in giallo, rendono meno pericoloso di notte perché si nota il colore. E' chiaro che bisogna rallentare perché uno degli scopi è quello di far rallentare la velocità nell'appeso urbino. Per esempio gli incidenti sono stati molti incidenti diversi dei quali anche mortali, non so da quando non ci sono più incidenti, tanto meno mortali grazie alle rotatorie. E' una rotatoria che va migliorata secondo il mio punto di vista, vanno accolti anche alcuni suggerimenti, già fatto presente dai nostri tecnici al costruttore perché quello è un investimento tutto privato, che è un investimento di 50 milioni di euro per 170 posti di lavoro. E' chiaro che quella strada che collega Apsella a Montalabate ha già un limite dei 50 e dei 30 perché è centro abitato e se uno va a velocità supersonica la rotatoria serve per calmare la velocità. Le strade hanno normalmente i limiti dei 50, dei 70, massimo dei 90, alla Montalabattese c'è il limite dei 70, ma nei centri abitati c'è i 50 e i 30. e bisogna cercare di salvare la vita camminando e aspettando i limiti.